Due strane Ciao, come stai? Senza amore La tua capacità di socializzare è praticamente nulla Fanno un patto Che vuoi da me? Forse posso darti una mano Che gli darà modo Dovrei vivere con me per un mese Di cambiare la loro vita La verità è che non ce l'ho un mese Tu non hai niente, non ti aspetta nessuno Chiano Reese, Charlize Theron Nesson, più fortunata di così non potevi essere Sweet November, dolce novembre Al cinema